E tratta questa versione dal Liber Posterior XIII di Velleio Patercolo. Velleio Patercolo vive al tempo di Tiberio e porta qui in questo brano che è stato estrapolato dal Liber, dai suoi due libri di storia, le avventure di questo Velleio Patercolo che era stato tribuna della plebe cent'anni prima. Velleio Patercolo è sempre stato un po' super criticato dai critici, perché i critici devono criticare, visto che non producono niente, criticano. Poi negli ultimi tempi, in questi ultimi anni è stato in qualche modo rivalutato, è stato criticato perché veniva considerato un filo imperiale. D'altra parte Velleio Patercolo era stato alle dipendenze di Tiberio, doveva tutto a Tiberio e in contrasto con la testimonianza di Tacito che era sulla riva opposta. A quel tempo, nei secoli, è stata data più attenzione alla versione di Tacito, mena quella di Velleio Patercolo. Adesso la storia sembra aver rivalutato in parte l'opera di alcuni imperatori, quindi così come va la storia, un po' va su, un po' direi che una via di mezzo forse sarebbe quella più opportuna da percorrere. Proviamo subito a tradurre la versione. Allora, interiectis paucis annis, abbiamo l'ablativo assoluto, passati pochi anni, e questo è a posto, c'è un participio passato, è un ablativo, annis in ablativo, quindi è un ablativo assoluto. Poi iniziò il tribunato, poi iniziò il tribunato Marco Livio Druso, uomo assai nobile, assai eloquente, assai onesto, e poi qui c'è il problema dell'usus, utor utor uteris usus muti, usus è un participio passato, ed è un deponente, quindi potrebbe essere tradotto con usando o avendo usato. Letteralmente poi utor, come fluor, fungor, pozzio levesco, sono verbi che regolano l'ablativo, e quindi tutti questi aggettivi e nomi, migliore, ingegno, animo, e poi qua fortuna, che secondo termine è di paragone, tuttavia sono tutti in ogni caso in ablativo. Letteralmente sarebbe usando in omnia, complemento di motologo figurato verso ogni cosa, un ingegno, un'intelligenza, uno spirito migliore che la fortuna, cioè usare l'ingegno, si affidava di più all'ingegno, al suo spirito, alla sua intraprendenza, che alla fortuna del momento. Questa invece è una frase un pochettino più complessa, vediamo di portarla sulla stessa pagina. Così la mettiamo in questo modo. Innanzitutto c'è una parte qui tra parentesi che bisogna tradurre dopo. Non cominciamo a tradurre la parte tra parentesi mentre si traduce l'altra, altrimenti non si capisce più niente, anche perché è lunga, se fosse solo due o tre parole, ma è piuttosto lunghetta. Quindi leggiamo prima la proposizione, la frase di fondo. Qui, cum senatui priscum restituere cuperet decus, et judicia ab equitibus ad eum transferre ordinem, in iis ipsis, que pro senatum moliebatur, senatum abuit adversarium, non intelligentem, si qua de plebis comodis aveo agerentur, veruti inescande in liciendeque multitudinis cause, fieri ut minoribus per cetis, maiore per miteret. E questa è una parte, l'altra, altra parentesi, la vediamo dopo. Questo qui si collega poi con in iis, senatum abuit adversarium non intelligente, perché qui abbiamo una relativa, que pro senatum moliebatur. Qui c'è un cum e un congiuntivo, cum cuperet. Qui abbiamo un'infinitiva, e quindi è questo, nesso relativo, perché non può anche essere questo relativo, un pronome è una proposizione relativa, altrimenti non abbiamo più la proposizione principale. E questi, cum cuperet, desiderando restituire, priscum decus, l'antico decoro al senato. Qui potrebbe sorgere qualche dubbio, perché normalmente la proposizione termina col verbo. E si potrebbe anche confondere la cosa e decus legarlo a judicia. Mentre questo et non unisce unice decus decus a judicia, ma unisce restituere decus priscum senatui all'altra proposizione. Quindi, desiderando restituire l'antico decoro al senato e trasferire, trasferire judicia i tribunali, i processi, ab equitibus, dai cavalieri, ad eum ordinem, a quell'ordine. Però, queste sono subordinate. Adesso, lasciamole perdere e riprendiamo la principale. E' questo. In ipsis que pro senatum olievatur. In quelle stesse disposizioni che predisponeva a favore del senato, quindi c'è una relativa, qui abbiamo ipsque, ebbe il senato come avversario. Quindi ebbe il senato contrario. Non intelligentem. Questo non intelligentem è difficile da tradurre, perché intellego normalmente vuol dire capire. Se io metto capire qui, il significato non c'è. Io ho visto tante traduzioni in rete, però sono traduzioni liberissime, che se io invece traduco intelligente, che non accettava. Che cosa non accettava? Qui c'è la condizionale. Si, ari, quade, prebis, comod, se avevo, cebanto, eccetera, eccetera. Non accettava fieri. E' l'infinitiva. Fieri ut. Fittutta cade che. Quindi, non accettava. Che non accettava. E' un participio presente, lo svolgo con una proposizione relativa. Non accettava. Oggettiva. Che potesse accadere. Io ho aggiunto un frasiologico. Potrei dire semplicemente, non accettava che accadesse. Che accadesse che. Fieri ut. Ut regge una complementare diretta. Un'esplicativa. Che. Un'esplicativa che è introdotta da un ablativo assoluto. Ricevute cose minori, favori minori, ne permettesse di maggiori. Abbiamo, però, tralasciato questa condizionale. Quei, non abbiamo qua, ma è ali qua. Perché con sinisi non seo, ali qui sperde ali. Se alcune cose agerentur fossero fatte de comodis plebis sugli interessi della plebe da lui, cioè dal pretore velut vuol dire come e poi c'è causa e grazia qui non c'è grazia evidentemente perché c'è solo causa causa e grazia, più genitivo del genuto del genutivo mi traduce una finale qui sostanzialmente qui sostanzialmente abbiamo una sinonimia perché sostanzialmente questi due verbi hanno lo stesso significato come per allettare e spingere la moltitudine. Allora, ricominciamo perché tralasciando questa parte in rosso e questa parte in blu, che di cui possiamo fare a meno è questo in quelle stesse disposizioni che predisponeva a favore del Senato ebbe il Senato contro che non accettava che se alcune cose fossero fatte sugli interessi della plebe da lui come per allettare e spingere la moltitudine potesse accadere che percepite cose minori permettesse e ne permettesse di maggiori non è facile adesso andiamo a tradurre la parte tra parentesi Nakti e Nanciscolo stavamo parlando degli equitibus si diceva e trasferire a quell'ordine i tribunali dai cavalieri a quell'ordine cioè al Senato i procedimenti giudiziali quipe infatti equites i cavalieri Nakti Nanciscolo è un deponente anche qui nella maniera migliore o si usa un gerundio semplice un gerundio composto avendo ottenuto quel potere attraverso le leggi dei gracchi complemento di strumento cum se vissent cum è congiuntivo avendo perseguitato oppure essendo andati contro perché c'è in multos vires un complemento di svantaggio un complemento di svantaggio può anche essere tradotto con in l'accusativo avendo agito contro molti uomini assai famosi e per non dire innocentissimi e del tutto innocenti allora ritorniamo a equites che era il soggetto allora verbo Damnaverand avevano condannato chi avevano condannato c'è un complemento oggetto Rutilio Publio Rutilio qui ci sono vari accusativi che si attaccano a Rutilium Virum Optimum Interrogatum quindi attenzione che tutto si lega a Rutilium avevano condannato Rutilio uomo prima traduciamolo così letteralmente ottimo non del suo tempo ma di ogni tempo quindi questo seculi sui e omni sevi secondo me è meglio metterlo come un genitivo partitivo se è un genitivo partitivo Optimum lo dobbiamo tradurre con superlativo relativo l'uomo migliore non del suo tempo ma di ogni tempo interrogatum traducendolo partecipio passato latino posso tradurre tranquillamente con partecipio passato italiano interrogato quindi dopo averlo interrogato a valore di temporale legge legge ripetum darum secondo la legge ripetum darum vuol dire della corruzione cum gemi cum gemi tu maximo civitatis con grande disapprovazione con grandissima disapprovazione di tutta la popolazione civitatis della città e così e così abbiamo tradotto anche la parte tra parentesi denique ea fortuna drusi fui tutta malefacta collegarum quam quevis optime abisso congitata sedatus probaret congitata sedatus probaret magis et onorem qui abeo deferebatu sperneret iniunias qui abillis intendebatu recoanimo reciproet etuius summe glorie invideret illorum modica ferret allora qui chiaramente la proposizione principale all'inizio perché non abbiamo nessuna particella subordinante e poi c'è tutta una una serie di consecutive che dipendono da ea ut ea ut che mi regge questo ut provaret sperneret reciproet invideret ferret e due di queste consecutive sono interrotte da una relativa qui abeo deferebatu que abillis intendebatu alla fine la fortuna di Druso fu tale che le malefatte dei colleghi no scusate devo cercare prima il allora il soggetto è probaret terza persona singolare quindi devo trovare il soggetto che è senatus e malefatta non è un soggetto ma è un complemento oggetto che il senato approvò malefatta collegarum accettò approvò più le malefatte dei colleghi che attenzione che qui c'è quivis cogitata optima abipso quivis quivis vuol dire qualsiasi qualsivoglia se io lo metto col qualsivoglia qualsiasi in italiano lo devo mettere a singolare perché qualsiasi in italiano non è il plurale quindi o metto qualsiasi proposta pensata ottimamente dallo stesso oppure tutte le proposte pensate tutte le cose ecco perché io adesso ho messo proposte perché tutte le cose non mi piaceva però quando c'è un neutro accusativo oppure nominativo è cosa sottinteso per non mettere semplicemente cosa in ogni modo letteralmente sarebbe tutte le cose cogitata pensate optime con moltissima riflessione ottimamente dallo stesso quindi ricomincio la fortuna di dare che il senato approvò magis più facilmente le malefatte dei colleghi che qualsiasi proposta intelligente no optime dallo stesso qualsiasi cosa proposta dallo stesso quindi fu tale che e disprezzò l'onore che era che le era senato che gli era rivolto dallo stesso ho aggiunto quel gli che gli era rivolto da quello letteralmente poi sentiamo avanti sempre ut che reciperet accolse patì ecoanimo con animo sereno ignunias le offese che intendevantur erano portate erano tese da quelli e sempre invidiò senato sottointeso che cosa attenzione che invidio regge il dativo quindi gloria summe è un dativo retto da invidiare da invideo e invidiò la sua la grandissima gloria di questo che sempre sopportò la gloria sottointeso mediocre di quelli quindi mi pare che non ci siano problemi a proposito l'unica cosa bisogna curare un pochettino più il lessico io evidentemente per dare una traduzione letterale a volte poi una volta che la traduzione è stata scritta si vede di aggiustare meglio in modo da rendere la versione in un italiano più corretto